Il terzo piano di Galata, il Museo del Mare del Porto Antico di Genova, ospita una mostra permanente dedicata all'immigrazione italiana, via mare e all'immigrazione straniera. Il visitatore è condotto lungo un itinerario che comincia dalla Genova di fine 800, punto di partenza per il viaggio della speranza verso l'America, e arriva fino ai giorni nostri, ai barconi di Lampedusa e al difficile ma affascinante cammino verso l'integrazione di chi cerca l'America in Italia. Ad ogni visitatore all'ingresso viene consegnato un passaporto appartenuto ad un migrante del passato di cui può rivivere la storia, grazie ad oltre 40 postazioni multimediali, molte delle quali interattive. L'esposizione racconta il fenomeno migratorio con un allestimento molto curato, che ricostruisce i vicoli di Genova, il piroscafo città di Torino, utilizzato per l'attraversata dell'oceano, fino ai luoghi di approdo come Ellis Island a New York, il coloratissimo quartiere della Bocca di Buenos Aires, fino alla foresta brasiliana. L'ultima sezione è dedicata all'immigrazione in Italia, con un richiamo forte alla tragedia degli sbarchi, ma anche al processo di integrazione, che passa dal lavoro, dalla scuola e dalla cucina, insomma dalla vita di ogni giorno. Perché il fenomeno migratorio non è solo un problema umanitario o di ordine pubblico, ma una realtà consolidata. Oggi, dice l'Istat, gli stranieri costituiscono 7,4% della popolazione.